Nel 2016 gli automobilisti dell'Emilia-Romagna hanno speso per la manutenzione e le riparazioni delle loro autovetture 2,7 miliardi di euro. Il report dell'osservatorio Autopromotec fa luce su un aspetto particolare del nostro vivere quotidiano e Rimini con i suoi 173 milioni di euro e tra le ultime della regione. La provincia emiliano-romagnola che registra la spesa più alta per la manutenzione e le riparazioni di auto eseguite nel 2016 è Bologna con 670 milioni di euro. Più distanziate seguono le province di Modena con 477 milioni di euro, quella di Reggio Emilia con 326 milioni di euro, Parma con 287 milioni di euro, poi Ravenna con 230 milioni di euro, seguita da Forlice-Sena 218 milioni di euro, Rimini 173 milioni di euro, Ferrara 166 milioni di euro, a chiudere il fanalino di Coda-Piacenza con 162 milioni di euro. Questi dati emergono da uno studio dell'osservatorio Autopromotec che è la struttura di ricerca di Autopromotec, la rassegna espositiva internazionale delle attrezzature e dell'aftermarket automobilistico, la cui prossima edizione in programma dal 24 al 28 maggio al quartiere firistico di Bologna, volendo poi dare uno sguardo a livello nazionale. Nel 2016 gli italiani hanno speso 29,5 miliardi di euro per manutenzione e riparazione delle loro autovetture, rispetto al 2015 la crescita del 3,9%.